Allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni si sfidano Inter-Juventus, match valevole per la seconda giornata della Paul Scudetto della Serie A femminile team. Va Caruso con il destro, dentro l'aria e poi arriva il gol di Sembrant, calcio d'angolo letale che costringe Durante a una corta respinta e sulla corta respinta arriva Sembrant che la mette dentro e va giustamente a ringraziare Caruso perché metà gol è suo. Caruso direttamente in porta, non se l'aspettava Durante che respinge insieme a Toggersen in qualche modo, Toggersen salva sulla linea e poi Sembrant raccoglie ed è un gioco da ragazzi a mettere dentro la porta dell'Inter. Qui la sfiora appena Durante, Toggersen la salva sulla linea ma non può nulla sulla corta respinta di Sembrant. Molto aperta la Juve su questo fronte, allora Bonansea lo scarico perfetto, Bonansea cerca di inventare qualcosa dal limite, Bonansea slalom da parte del numero 11 bianconero che entra in aria, Bonansea! Durante si oppone alla grande ma che giocata, che slalom di Bonansea! Salta Borghetti, salta Carciunì, salta anche Miasci che... Allora Carciunì, prova a ragionare la squadra di Guarino, cross dentro per Alborghetti che poi finisce la palla sul piede destro di Ekov, anzi di Toggersen. Rivediamo Toggersen, controllo e tiro, grande giocata da parte di Toggersen che riceve palla da Alborghetti. Controllo di destro, esterno destro subito a concludere, ma per Romagnan mette la palla dentro per Cernoia che cerca di dare la palla di ritorno alla stessa Gama. Attacco di Gunnarsdottir, Gama guarda in mezzo, cross dentro a cercare Bierenstein! Azione stupenda con l'inserimento perfetto di Lineth Bierenstein. Alla destra di Durante, grande cross col contagiri di Gama per l'inserimento di Bierenstein che arriva di testa con una grande coordinazione, ma non riesce a trovare lo specchio della porta, trova solo il fondo di un niente. che va dentro l'area piccola a far traffico, tutto pronto, va Caruso con l'angolo, battuto, colpo di testa, vincente! Da parte di Gunnarsdottir per il raddoppio Juve, fa sempre male sui sviluppi di un calcio d'angolo la Juve, e ancora una volta arriva la rete, questa volta a segnare è Gunnarsdottir che trova l'angolino alle spalle di Durante al minuto numero 69. Angolo perfetto da parte di Caruso che pesca in aria, Gunnarsdottir che si gira benissimo di testa, mette la palla lì dove non può nulla Durante sul palo lontano, grande girata di Gunnarsdottir. e sono i sviluppi di un calcio d'angolo, nuovamente la Juve trova la rete come nel primo tempo, sempre dal piede di Caruso. Van der Graagd prova a innescare Chawinga che entra in aria, Chawinga si mette la palla sul sinistro, per Omanian, ancora Chawinga! E arriva anche il gol dell'Inter con Chawinga, Inter 1, Juve 2. Azione insistita di Tabitha Chawinga che ci ha creduto sul lancio di Van der Graagd. Lancio di Van der Graagd per Tabitha Chawinga che si porta avanti la palla con la testa, supera Salvai in velocità, esterno ribattuto prima di Peromagnan, ma Elesta è abilissima a rimettere subito in rete la rispinta del portiere della Juve e riaprire il match in questi minuti finali. Chiaramente poi la partita continuava a essere spezzettata da tanti falli, tanti interventi da una parte e dall'altra, qui sbaglia Van der Graagd, regala la palla a Girelli che ne approfitta, Girelli prova a entrare in aria, Girelli la palla sul destro, ancora Girelli, tacco liberare Bonansea, Bonansea! E arriva il trist della Juve con Barbara Bonansea, proprio allo scadere, tacco sontuoso di Girelli che apparecchia la tavola nei migliori modi di buona per Bonansea, che non sbaglia davanti a Durante, trova il gol del 3-1 e spegne le speranze di rimonta dell'Inter. La premia con un gran tacco e Bonansea con il sinistro, Fredda Durante in uscita per il 3-1 Juve, proprio al minuto numero 90. Quinto gol per Bonansea in campionato. Va con il destro a cercare Polli che controlla e tira, palla alta sopra la destra, sopra la traversa. Ha fatto tutto bene Polli, ma non è riuscita a inquadrare la porta. Intanto si accende una mini rissa con l'arbitro che corre subito a sedare gli animi. Invece la Juve pensa a festeggiare questo 3-1 pesantissimo, importantissimo. E' importantissimo.